Siamo nella tradizione del Settembre al Borgo, dal primo al sette abbiamo presentato un programma di grande innovazione soprattutto, ma un cartellone anche molto ricco di novità. Il riferimento vado subito alla cosa che credo che va messa in evidenza, questa iniziativa con il grande pianista Ramin Barami perché per sette giorni farà una summer school con giovani pianisti che vengono da ogni parte e anche da fuori e che saranno ospitati nelle famiglie di Caserta Vecchia. Questa è una novità quest'anno che vorrei che attecchisse perché ci avviamo a far nascere una tradizione che sarà anche una piccola economia per le famiglie residenti nel Borgo di Caserta Vecchia.